Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Pelle di coccodrillo, tarzanelli, se mia madre mi pulizza 100 grammi di salam, pulitano, fumano, bellucano, rodrigo che canta, gurigurigo, cino e lamba con Antone, mamma mia che puzzo, sono gas alfatare, i puzzure, popono, i puzzure, i puzzure, i puzzure. Grazie per il beat, bello. Alexa, riproduci il ballo del quacqua. Chi è? Oh grazie, condor, grazie mille. Grazie per i tuoi euro, grazie. Aspetta. Patrice, pure in ordine, fino a arrivare. Ma le mie multivite stra-morte. Oddiiii! Si sono disentiti. Grazie per i tuoi euro, grazie per i tuoi euro. Oh, 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 oh. Che stai facendo? No! Oh! Ma che fa? Sei, 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 sei. In altro cogliardico. Sei, sei. Sei. Sei, sei. Sei, sei. Ok. Allora, stavamo dicendo. Sei, sei. Allora, sei. Ok. Ma si sceme, è troppo bello. Le nostre linee sono chiuse. Puoi contattarci dall'ora 9 all'ora 19, da lunedì al venerdì. Ma il cacchino è morto! Guarda me un verruzzo! Ma gli darò un pesce! Contatti il suo medico o il suo pronto... O medico, guarda me, rega! Ma sei, è un pesce! Voglio pesce! Ma il cacchino è morto! Voglio pesce! Ma hanno registrato, poi rimano sento, non preoccupato. Queste cose mi facciamo sempre. Voglio provare nuove canzoni, nuove canzoni. Chi stava miso? Andate il canzoni, andiamo. Cazzo, mi hanno bussato. E chi è? Così freddo, eh? Oh no, ma sono... Allora... E' l'endesa, l'endesa, perché non si è la stazione di affaire, l'agra. Ah, guarda... Hai, sei chuno... Uh, fia bra! Di cocodillo, no cocodillo. Cocodillo, cocodillo. Cocodillo, cocodillo. Cocodillo, di cocodillo. Cocodillo, no cocodillo. Cocodillo, cocodillo. Cocodillo, cocodillo. Cocodillo, cocodillo. è bella è bellissima bellissima vive tinder ma ha pagato se lo masco sta splendido ma gli ha dato per andare su marte e poi ci sono persone con 20 euro vanno e vengono allora su peru io oggi capi una cosa ma possibile mai non lo so perchè lo fai c'è un motivo perchè scrivi solo strunzata ma che tiene da quella capa tiene una nucellina fraffiutata non è buona che la nucellina in capa perchè non capisco è impossibile no non penso no non penso comunque lui ha mandato anche un audio e guarda faccio di live chissà l'audio si si hai detto aspettava la città porca ah chi sta da là vanno a saffare in culo ora è tutto chiaro no no si conosco la voce io sono loggato io sono loggato vabbè comunque sto trasendendo la coppa gta ehm baffanculo no 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 non incominciate oh no 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 vabbè no no non è possibile non è possibile no non è possibile non puoi cominciare anche oggi cioè non puoi sentire Antonio tutta live no basta con questo Antonio tutto cazzo veramente no c'è esteticamente no è bello ragazzi allora cazzo chissà da vuole donato mi commetto no chissà che lui è nuovo esce esce fuori Giovanni è un attimo sto prendendo il cibo gente quello che stava nella rimozione ma speriamo di che fa no stai pure fuendo stai arrivando ma cominciamo andiamo vai donato mi fatti morì mo da la puttane nonna che la ranta cesse mamma ecco incoglionito non sanno neanche sparare guarda guardate guarda 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 non sanno neanche sparare lo so che non le inquadra il pene ma comunque è illusione io non posso mettere quello pesce da fuori dicendo ragazzi c'è il pesce da fuori ma non si vede non lo posso fare cioè io non è che c'entra che non si vede vuol dire che non posso farlo non bucchino solta che possibile possibile però ok però ciao